L'attacco delle forze algerine a un convoio di militanti islamisti vicino al sito gasiero di Inamenas. Queste immagini amatoriali, girate probabilmente giovedì da un ostaggio riuscito a fuggire, raccontano una parte di una storia finita tragicamente. 23 gli ostaggi e 32 gli assalitori uccisi il bilancio ufficiale, mentre oggi sarebbero stati trovati altri 25 corpi. L'assedio si è concluso con l'assalto delle forze speciali algerine. Il bilancio aumenterà, secondo Algeri, 107 ostaggi stranieri e se 185 algerini sono stati liberati. La TV nazionale ha mostrato una serie di fotografie scattate durante la crisi degli ostaggi, di cui tuttavia non è stato possibile verificare l'autenticità. Secondo una testimonianza, i rapitori li costringevano a indossare esplosivi. Il commando, formato da terroristi islamici di sei diverse nazionalità, considerava l'attacco una ritorsione contro l'intervento militare francese in Mali, cui l'Algeria ha offerto sostegno logistico. Grazie.